Precious è un gioco di ruoli intenso e profondo, adatto per una serata improntata all'introspezione e alla riflessione. In Precious i giocatori ricostruiranno la storia di uno o due personaggi condannati a morte ed in attesa dell'esecuzione, il tutto mettendo in scena quattro momenti chiave della vita del condannato. Il gioco si sviluppa su due livelli, uno estremamente libero, improvvisato e teatrale, dove i giocatori dovranno istintivamente lavorare con la propria immaginazione per dare inizio alle scene e alle scelte del personaggio che stanno interpretando. L'altro attraverso la meccanica del gabbio, un regolamento semplice in grado però di portare su dei binari ben precisi le storie, aiutando i giocatori a mettere in scena gli elementi fondamentali necessari per raggiungere la giusta coerenza, a introdurre i fondamentali elementi di tensione e a definire l'esito delle azioni raccontate. Durante il gioco due giocatori dovranno interpretare i condannati, mentre gli altri si alterneranno in ruoli di contorno ben precisi tra chi è a favore della pena di morte, chi è contrario e chi si limiterà a registrare e riportare la storia del protagonista del momento nel modo più neutrale possibile. Da qui in poi i protagonisti dovranno vivere quattro scene della loro vita, partendo dalla più recente e dalla più lontana, scene in cui verrà messo in campo il lato più umano e quello più oscuro del protagonista, del quale alla fine avremo un quadro controverso, come giusto che sia. Dopo la prima scena sarà la meccanica a guidare automaticamente i giocatori verso la seconda, la terza e poi l'ultima. Ininfluente, ai fini del gioco, la sopravvivenza o meno del protagonista. Ciò che conta in Precious è viaggiare attraverso un tema forte e farlo con le emozioni e la voglia di essere coinvolti. A completare il gioco troviamo poi due parti molto interessanti, un bel capitolo dedicato all'argomento della pena di morte e delle attività portate avanti da Amnesty International ed una serie di ritratti di persone realmente esistite che nella loro vita sono state protagoniste di questo forte tema. Se state cercando un GDR che vi coinvolga emotivamente, Precious non vi lascerà indifferenti. Lo trovate sul nostro store all'indirizzo www.terra dei giochi.it